Torniamo ancora in questo mese di maggio dedicato a Maria, la madre di Dio e la madre nostra, la madre di ogni uomo, ma anche la madre di quegli uomini che non la riconoscono come madre di Dio. Perché vedete la maternità di Maria come la paternità di Dio, l'amore di Dio, non può avere limiti o confini di razza, di etnie, di religioni. Dio ama ogni uomo, anche quelli che non lo credono e non lo riconoscono come tale. Maria, essendo madre di Dio, è madre di tutti. Un padre e una madre amano i loro figli anche quando i loro figli non li riconoscono nell'atteggiamento e nella vita. E quindi Dio ha creato l'uomo e donandoci Maria ha dato a ciascuno di noi una madre. Maria è benedetta anche per questo. Quando noi preghiamo e diciamo, Maria tu sei benedetta fra tutte le donne, non vuol dire che Maria è l'unica benedetta delle donne, no, ma fra tutte le donne. Ma è di una benedizione particolare perché è legata alla sua missione, quella di essere madre di Dio e quindi, come dicevamo, di essere nata senza colpa originale. Se una mamma, si diceva nella puntata precedente, è felice nel momento in cui si vede tra le braccia il suo bambino, figuratevi Maria che ha concepito da Dio e che ha dato carne a Dio. Ecco la vera benedizione, il vero motivo per cui Maria è benedetta, dare la carne a Dio. E in un certo senso, non come Maria, noi possiamo partecipare di questa benedizione di Maria quando noi stessi, nella nostra vita, con la nostra testimonianza, diamo, tra virgolette, carne a Dio. E quando io do carne a Dio nella mia vita? È possibile che io possa partorire, tra virgolette, sempre come Maria? Possa essere io grembo di Dio per questo mondo? Certamente. Quando io do carne a Dio? Quando una famiglia cristiana che vive il matrimonio, che vivono la fedeltà, quando dei genitori si consumano per i loro figli, quando una mamma, un papà, soffrono assieme a un figlio che soffre, quando danno speranza, quando vivono e accolgono il lutto, per esempio, di un figlio, che è la cosa più tremenda di questo mondo, perché vedete, se è giusto, tra virgolette, ed è psicologicamente accettabile che un figlio accompagni i propri genitori alla tomba, è qualcosa di inammissibile, di dolorosissimo, di atroce che un genitore accompagni i figli alla tomba. Quando tutto ciò è vissuto con amore, è vissuto nell'amore, è vissuto nella speranza, ecco che noi diamo carne a Dio. La famiglia può dare carne a Dio come Maria e quindi si può dire di quella famiglia tu sei benedetta come Maria e perché tu sei benedetta da Dio. A domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. A domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. A domani, Padre Pio TV, dritto al cuore.